Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Il traffico è un momento regolare su strade e autostrade della Toscana. Possibili disagi in A1 per presenza di veicolo fermo o in avaria tra Firenze Sud e in Firenze Impruneta in direzione Bologna. Stessa situazione sulla Firenze Mare tra Prato Ovest e Pistoia per chi viaggia verso Pisa. I FIPD ricordiamo che sono in corso i cantieri tra Montelupo ed Empoli Est. Il cantiere sarà smantellato il 1 luglio e resterà sospeso per tutta l'estate per riprendere poi il 1 ottobre. Prima di salutarci per il traffico aereo è in corso per oggi sabato 25 giugno uno sciopero di 24 ore indetto dal personale Ryanair, EasyJet e Volotea. Numerose le cancellazioni dagli scali toscani. Muoverse in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana, Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!